Stiamo adesso a visitare il museo degli attrezzi agricoli, tutto ciò che si usava nell'agricoltura della zona. Vedremo i granelli furi. Il suono non è proprio quello vero, perché in campagna non dovevamo mai correnti, non sentiva il suono dei motori, lo scoppio, o anche meccanismi, il cavallo per esempio, faceva girava così, ne dava la forza alla 3 metri. Da qualche minuto si prenderà, si incasce questo programma a premere le botone verde, di nuovo. Grazie.